È tutto così perfetto. Viviamo in un posto magnifico. Adoro questa vita. La Cavese ha raggiunto ieri la sede del ritiro precampionato a Sturno e ha svolto un primo allenamento stamattina presso il campo sportivo Il Castagneto, dove la squadra si è recata per la terza estate consecutiva. Solo ieri sono stati ufficializzati due rinforzi in entrata, che sono due difensori centrali. Emanuele Matino, classe 1998, e Lino Marzoratti, classe 86. Ma piuttosto a sorpresa, questa mattina la società ha comunicato l'ingaggio di un attaccante sloveno, Luca Vekic, classe 95, nato a Postumia, che ha giocato principalmente nella sua città Natale e a Capodistria. Ma conta anche tre presenze con l'Under 21 slovena. Si tratta di un calciatore dinamico, che preferisce fare la seconda punta e partecipare alla costruzione del gioco. Quindi, aspettando a Eluazni nel reparto offensivo c'è Vekic, ma sarà importante soprattutto il colpolino Marzoratti in difesa. Il calciatore, Scuola Milan, ha conosciuto anche la Serie A con i Rossoneri e poi anche con Empoli, Cagliari e Sassuolo. A 33 anni Marzoratti può essere titolare, data la sua conoscenza anche della Serie C, ma in virtù della sua personalità potrà anche essere in grado di fare la chioccia per i giovani, anche perché il resto del parco difensori è al momento costituito da Under. Emanuele Matino, altro difensore centrale, è promettente, dato che l'anno scorso si pensava potesse giocarsi qualche possibilità in massima serie con il Parma e di fatti lo stesso club Emiliano lo ha ceduto alla Cavese in prestito perché crede molto in Matino. Un altro nuovo rinforzo riguarda il centrocampo per la Cavese. È stato infatti ingaggiato il centrocampista Antonio Matera, 23 anni e gran fisico, esperienze per lui con le maglie in particolare di Fidelisandria e Potenza. Il giocatore ha stipulato un contratto biennale così come Marzoratti. Tra i giocatori che sono stati aggregati al gruppo metelliano anche il giovane portiere Rinaldi, il difensore Gatti, i centrocampisti Scialpi e Cataldi e gli attaccanti Maniscalchi, Strances e Ferrera Carrasco, ma anche i ragazzi del vivaio Petrosino, Barba e Trapani. Sale invece in Serie B il giolli Damiano Lia, il quale solo 14 mesi fa militava in Serie D. Ha infatti firmato con la Juve Stabia, da dove è arrivato lo stesso Marzoratti. Per Lia un gol con la maglia della Cavese in 25 presenze, quello segnato al Catanzaro. Quindi una Cavese che si sta muovendo, ma le altre due squadre campane di C sono momentaneamente ferme. La casertana sta cercando prima di cedere per poter far quadrare i conti, poi potrà acquistare. Mentre l'Avellino dovrà essere venduto a una cordata che possa garantire il prosieguo del calcio irpino in Serie C, dato che è attesa la sentenza per domani a carico della Sidigas, che è la società che controlla l'Avellino e anche la società di basket dello scandone. La casertana ha proposto al puntero Gigi Castaldo di dimezzarsi l'ingaggio, ma l'entourage del giocatore ha fatto sapere che il suo assistito non è molto contento. L'Avellino potrebbe provare a continuare nell'attuale gestione per un periodo limitato di tempo, attraverso un concordato, vendere le quote oppure rischia la curatela fallimentare. Intanto la Paganese spera in questi giorni di poter rientrare nel novero delle società che potranno essere riammesse in Serie C dopo la retrocessione.